Tanta voglia per tutti ragazzi, io sono Ferryx e siamo qui come sempre con le vostre top 5 Le vostre clip che ci inviate ogni settimana sulla pagina facebook caricate su siti come Mega o Mediafire Questa settimana devo dire che è stato difficilissimo fare questa top 5 perché abbiamo tutte clip fantastiche Andiamo subito a vedere chi si è classificato in quinta posizione La quinta posizione di questa settimana ci porta su Battlefield con Antonio Antonio ha effettuato una cerchinata pazzesca, una magari solo una, ne ha fatte prima 4 cerchinate ragazzi da distanze chilometriche Non si sa da che distanza, poi niente vede passare un bel caccia solo da sua via, gli butta su un C4 e lo fa esplodere Ragazzi crolla il mondo, X-Black si è tornato su GTA ma è solo 4 ragazzi Pensate se metto X-Black 4, 4 pensate dopo cosa ci sarà Comunque X-Black lo conosciamo, stunt pazzesco, questa volta si lancia su un ponte e si parcheggia là sopra Tranquillamente sopra le gradinate, vorrà vedere meglio un po' il panorama Terzo posto ragazzi siamo su GTA e questa volta c'è Lorenzo che si butta da un jet Passa attraverso il garage e se ne va così, in tutta tranquillità con il suo bel paracaduto da Gay Pride Seconda posizione, posto caldo per il podio e Wolf89XX che odia tutti quanti i veicoli volanti Infatti se giocate con lui non prendetelo mai, anche perché poi dopo avervi ucciso vi si frega il vostro come ha fatto in questo caso Daniele in prima posizione ragazzi, ancora su GTA guardate che cosa pazzesca fa attraverso l'autostrada Per fortuna non erano piloni italiani perché da noi sarebbe crollato l'autostrada addosso Bene ragazzi il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero condividiate con me la classifica Ci vediamo settimana prossima ancora con le vostre clip Mi raccomando mandateci tantissime clip su Facebook, da FairX è tutto, bello